Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Torniamo a parlare della raccolta firme voluta dal Partito Democratico e da Fabio Aquilini del Movimento Civico Italia del Rispetto istituita per evitare la chiusura della clinica Santa Maria delle Grazie. Ieri, attraverso le pagine della provincia pavese, il sindaco di Voghera Carlo Barbieri aveva definito l'iniziativa una strumentalizzazione politica. Dichiarazioni che non sono piaciute al democratico Roberto Gallotti che nell'intervista rilasciata ieri sera a JobTV ha definito le parole del primo cittadino ingiuste e prive di fondamenta. Ma il consigliere non è l'unico ad essersi risentito. Fabio Aquilini infatti ci tiene a precisare che la raccolta firme non è una strumentalizzazione ma il frutto delle segnalazioni dei cittadini. Il mio essere qui in fianco al consigliere comunale Gallotti e davanti alla bandiera del Partito Democratico è un segnale di un atteggiamento diverso di fare politica. Cioè una politica che non giudica, ma una politica che cerca di costruire. In questi due anni le petizioni sono sempre partite da me perché è l'unico modo in quanto movimento senza alcuna base economica è per poter creare un atteggiamento politico. Io ho coinvolto il consigliere comunale Gallotti con la proposta di poter sensibilizzare attraverso il Partito Democratico quello che io ho ritenuto un problema importante perché mi è arrivata telefonicamente questi cittadini che mi dicevano segnala questo disagio della clinica. Così è stato fatto. E vorrei aggiungere che no a una strumentalizzazione per il semplice fatto che io non sono in consiglio comunale quindi non ho nessun potere decisivo pertanto il mio obiettivo non è di strumentalizzazione è un obiettivo propositivo quindi di ascolto del cittadino, dei suoi disagi conseguenti a delle scelte che l'amministratore dell'amministrazione fa. Secondo Aquilini anche molti vogheresi sono rimasti sorpresi dalle dichiarazioni del sindaco Barbieri. Qualcuno mi ha telefonato e sono rimasti un pochettino a bocca aperta perché ciò che è uscito è questo in poco più di quattro ore si sono raccolte quasi 600 firme e credo che non si possa parlare di strumentalizzazione ma semplicemente di un problema grosso per la città. Grazie. 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 Grazie.